Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è lunedì 21 agosto 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanacco del giorno. È un santo che a Fano è noto, c'è una parrocchia intestata a suo nome. Si tratta di San Pio X, patriarca di Venezia e poi successore di Leone XIII. Fu un grande riformatore della chiesa, Papa Sarto. Morì nel 1914 alla stretta vigilia della Prima Guerra Mondiale. Fu fatto santo nel 1954 da Papa Pacelli. Questo è San Pio X. Vediamo le previsioni del tempo. Ecco, vediamo che dalla grafica proseguono condizioni anticicloniche sulle Marche. Le temperature massime si attesteranno sui 34-37 gradi. Siamo veramente nel picco della stagione. Una moderata ventilazione spirerà da nord sulle coste, mentre nell'entroterra da nord-nordeste. E dicevo, le temperature, la minima 24, le massime salgono veramente fino a 37 gradi. Siamo veramente in condizioni di affa particolare. Il bello è andare in spiaggia. E noi ci andiamo subito questa mattina e andiamo ai Bagni Sergio di Fano, dove troviamo Lorenzo Premi. Buongiorno, Lorenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Com'è il mare stamattina? Una tavola? Il mare è una tavoletta, calmo. È un bel mare. Benissimo, le condizioni ideali dunque per andare in spiaggia. Diciamo subito ai nostri ascoltatori, ovviamente i fanesi conoscono i Bagni Sergio, sanno dove si trovano, ma coloro che vengono da fuori probabilmente non lo conoscono. Ci puoi dire dove sono i Bagni Sergio e due parole sulla tua concessione. Allora, i Bagni Sergio sono in Viale Adriatico, nella parte, diciamo, finale della Sassonia. Sì, quanti ombrelloni hai e quali servizi offri ai tuoi clienti? Allora, niente, Bagni Sergio ha quasi 600 ombrelloni. E niente, noi abbiamo la disponibilità della piscina, abbiamo un campo da beach, abbiamo un'area riservata ai bambini con dei giochi, gazzeri, bar e tanto divertimento. Benissimo, insomma, c'è di che stazionare in spiaggia per tutta la giornata senza annoiarsi. Senti, ci fai fare un giro con la telecamera per dare un'occhiata un po' a tutto il paesaggio che ti circonda? Ecco qui i bagni, piano piano, piano piano, Lorenzo, piano piano, ecco così. Vediamo il sole che è da poco sorto dall'orizzonte. Ovviamente al mattino ancora è presto, ci sono poche persone, ma forse questa è la temperatura ideale, in modo particolare per gli anziani che possono così godere di un certo fresco al mattino senza poi accaldarsi eccessivamente nelle ore tarde della giornata. Lorenzo, la tua spiaggia confina con una spiaggia libera, è vero? Esatto, noi confiniamo da un lato col circolo surf e dall'altro con la spiaggia libera. Ecco, avete anche una certa responsabilità nei confronti di qualche metro di questa spiaggia? Gli date un'occhiata ovviamente anche per quanto riguarda il controllo dei bagnanti? Sì, sì, noi comunque la nostra spiaggia è abbastanza grande, però comunque siamo pronti anche all'intervento nella zona di mare di fronte alla spiaggia libera. In passato i bagni Sergio hanno sofferto di erosione, questo problema è stato superato adesso? Ma guarda sì, da quando hanno fatto le scogliere comunque la spiaggia ha ripreso parecchi metri perché era veramente una situazione un po' critica prima che facessero le scogliere. Benissimo, quindi avete riposizionato gli ombrelloni e avete ripreso tutti i clienti. Bene, ti ringraziamo per questo primo appuntamento, poi ci risentiamo anche domani e per tutta la settimana e parleremo ancora di vacanze perché dopo Ferragosto l'estate non è finita e quindi continua ancora. Benissimo, grazie Lorenzo, ci sentiamo domani. E allora noi continuiamo la nostra rassegna stampa a partire dalla pagina dell'Arresto del Carlino e vediamo la prima pagina con il sunto di tutte le notizie. Vediamo prima di tutto quelle della provincia di Pesaro Urbino dove vediamo che c'è una protesta da parte dei residenti che abitano nei pressi dell'hotel Elvezia. L'hotel Elvezia è un hotel particolare, poi lo vedremo nell'interno, intanto vediamo il titolo. Hotel Elvezia, sfogo dei residenti, abbiamo paura, poi vedremo il perché. A Urbino la cultura piange la scomparsa di Cerboni Baiardi, che fu vice sindaco della città, mentre per quanto riguarda la sanità c'è una levata di scudi delle mamme per la salvaguardia della pediatria di Pesaro. Ancona le minacce astronati, non deve dimettersi, una solidarietà al presidente dell'Interporto per il caso di Amazon. Difesa dell'ex sindaco di Iesi, i cittadini commentano, così ha creato lavoro. E poi vediamo che in Ancona, al passetto, tornano i bivacchi, i bagnanti al comune sollecitano perché si intervenga. Sul lungomare di Senigallia un drogato minaccia la polizia con un coltello ed è stato appunto fermato. Ad Ascoli un bambino di 5 anni rischia di annegare, è stato salvato per fortuna da un bagnino, mentre per quanto riguarda lo sport vediamo che oggi ci saranno i funerali per Carletto Mazzoni, negozi chiusi, centro bloccato ad Ascoli, Piceno. A San Benedetto un incidente al porto provoca la morte di un 54enne caduto con lo scooter. Purtroppo non ce l'ha fatta. A Macerata, Città Unita, per salvare il pozzo, un locale che ha fatto la storia della città e poi accusato di tentato ammicidio, un uomo assale gli agenti con un macete, è stato inseguito ed arrestato. A Porto Recanati anche le ragazzine fanno a botte e due finiscono al pronto soccorso. Ebbè, ci sono ragazzine anche piuttosto aggressive. Allora apriamo il giornale, vediamo la pagina di Pesaro e la vicenda dell'Hotel Alvezia. Hotel Alvezia è un hotel particolare. Si può dire che è la porta d'accesso al salotto marino della città, ma è una porta che è aperta a tutti, anche agli extracomunitari. Infatti i titolari hanno deciso di ospitare gli extracomunitari e persone senza alloggio mandati dal comune o da altri enti. Purtroppo alcuni di questi hanno mantenuto dei rapporti incivili, hanno dato inescandescenze, hanno causato problemi ai residenti e ora qualcuno di questi ha paura anche di uscire da casa. Ecco perché si chiedono dei provvedimenti. Dopo il fatto del nigeriano, l'ultimo che è accaduto, rimonta la protesta. Accoglienza sì, ma fatela in campagna, dicono i residenti. E qui, insomma, c'è una certa rivalsa. Occorre mantenere l'ordine pubblico, ma non si sposta il problema da un'altra parte, perché poi i residenti della campagna possono protestare come quelli del mare. Purtroppo la situazione è questa, il problema va risolto alla radice. Mio nipote è discriminato per la pelle. Il racconto di un nonno pesarese, che ha un nipote di colore, un nigeriano. Un nigeriano che vive a Parigi con la figlia appunto di questo cittadino pesarese. È un nigeriano plurilaureato, è andato alla Sorbona, era venuto a Pesaro per passare le vacanze e se ne tornava tranquillamente, partendo dalla stazione di Pesaro con il treno, nella sua località di abitazione. E' stato fermato dalla polizia, gli sono state chieste i documenti. Poi un poliziotto ha detto, dimostri che questi documenti sono validi. Dovrebbe dimostrarlo il nigeriano e non farlo controllare la polizia. E poi c'è stata un'espressione, secondo quanto riferisce il giornale, al quanto infelice. E il nigeriano borbottava tra sé per il timore di perdere il treno, perché i poliziotti dilungavano il loro controllo. E un poliziotto gli ha risposto, se parli da solo, fatti curare. Insomma, questa è una situazione un po' incresciosa, che comunque deve essere chiarita. E allora, non toccate pediatria. Le mamme pesaresi fanno le baricate e sabato ci sarà anche il Partito Democratico a organizzare un presidio. I DEM organizzano una manifestazione davanti al San Salvatore Anna Maria Mattioli. Il punto nascita è un'eccellenza. Non va ulteriormente depauperata la sanità territoriale nel capoluogo, ma ovviamente non va depauperata nemmeno quella dei nosocomi della provincia. Dunque, è accaduto, poi qui c'è un esempio significativo, c'è una mamma che si è trovata nelle condizioni di partorire entro sette minuti e certo è che se non avesse avuto il reparto subito a disposizione, ma avesse dovuto andare in un altro ospedale, probabilmente avrebbe avuto dei problemi. La riapertura del reparto, intitola il resto del Carlino in un sommarietto, era prevista da una delibera della Regione di dicembre. Non si torni indietro, perché c'è questa possibilità. Rispunta a Carriera vuol fare una lista civica. Il ristoratore, salito alla ribalta durante il Covid, organizza una riunione per questa sera. Questa sera alle ore 21, alla Gaida, in via Carloni, tra Muraglia e la Baratof, ci sarà un incontro però a porte chiuse, per vedere se sarà possibile, nel caso in cui vi sia una concordanza di idee tra i convenuti, costituire una lista civica per le prossime elezioni amministrative. Tiriamo la pagina e vediamo che a Urbino è morto Carboni Baiardi. Cultura in lutto, fu anche vicesindaco. Divenne preside della facoltà di lettere, era tra i fondatori della scuola di moda. Il suo impegno nell'Accademia Raffaello è durato tutta la vita. Aveva 91 anni. I suoi funerali si terranno domani alle ore 10 nella casa dell'Annunziata. Si tuffa e resta incastrato tra gli scogli, salvato dalla Capitaneria di Porto, una disavventura a lieto fine per un cinquantenne di Gabicce Mare. Il fatto è avvenuto a Cattolica. Ed ora vediamo due articoli di cronaca che si sono verificati, che sono accaduti ieri a Fano. I vigi del fuoco sono intervenuti per liberare un gattino che si era incastrato nel motore di un'auto. Una task force per liberarlo. In azione la polizia locale, i pompieri, il comune e addirittura anche la melampa. Questo concorso di forze per liberare questo piccolo animale. L'allarme è scattato ieri alle 14 in via della Libertà, quando al comando della polizia locale è arrivata la segnalazione di un gattino intrappolato nel cofano di un'auto. Ebbene, i pompieri hanno tentato più volte di estrarre il gattino. Nel frattempo è sceso in campo anche l'Ufficio Comunale sulla tutela degli animali, che ha contattato le responsabili dell'associazione Melampol, che hanno un particolare feeling. Sanno il comportamento, conoscono il comportamento dei gatti. E dopo, pensate, dopo 45 minuti di manovre, finalmente sono riusciti a estrarre il micino. Tutto impaurito, ovviamente, per quanto accaduto, ma sano e salvo. E poi non sono mancati gli incidenti stradali. Fano, incidenti a Raffica, due scontri, tre feriti. E poi è accaduto anche un altro incidente a Macerata, Feltria. Il primo incidente è accaduto alle 10 a Metauriglia. Un'auto condotta da un 59enne fanese ha svoltato a sinistra per andare verso la spiaggia, ma in quel frangente è andata a sbattere con uno scooter con due persone. Il conducente di 67 anni e la passeggera hanno riportato lesioni, per fortuna non gravi. L'altro incidente si è verificato alle 10.30, con la collisione tra un mezzo guidato da un pesarese di 61 anni e una bicicletta condotta da una fanese di 41. È successo all'altezza delle cavalcavia di via Fratelli Zuccari, nella zona del Bersaglio. La ciclista è stata portata al pronto soccorso. Poi si parla anche di un altro incidente che si è verificato a Macerata, Feltria, sulla strada verso Mercatale. Alle 9 un'auto condotta da una donna ha superato un gruppo di una quindicina di ciclisti, ma ne ha urtati tre facendoli rovinare a terra. E questo per quanto riguarda la provincia di Pesaro. Vediamo anche qualche notizia sulla pagina di Ancona. Stronati, minacciato di persona, dimettersi ora non serve a nulla, nuovi elementi sulla vicenda che vede vittima il presidente di Interporto. La notizia che abbiamo richiamato sulla prima pagina. E poi anche la notizia del passetto dove tornano i bivacchi in Ancona. I bagnanti insorgono, trovate una soluzione. Gli abituè puntano il dito contro il comune e chiedono interventi che per una volta siano definitivi. Questa gente va aiutata. Questo è bello perché non si può spostare il problema, come abbiamo detto, dal mare in campagna o dal passetto o da un'altra parte. Bisogna intervenire sulla radice del problema. Questa gente va aiutata. E' stato possibile che non ci sia uno strutture per loro, è un punto interrogativo, che viene rivolta all'amministrazione comunale. E poi degli incidenti. Continuano gli incidenti, magari con una certa imprudenza, in mare. Si getta in mare dopo aver bevuto una bottiglia di vodka. Ed è gravissimo. Un ragazzo nordafricano è stato portato all'ospedale di Torrette, incosciente. Dramma in piazzetta Marcelli, colpito in testa da un traliccio. Ebbene, questi sono i fatti che accadono e vengono rilevati dal resto del Carlino. Ora apriamo il Corriere Adriatico. Vediamo la pagina di Fano e torniamo a parlare di incidenti. Un anziano turista, salvato in mare, muore poco dopo un malore. E' avvenuto nella spiaggia libera di Torrette. Era un settantenne, un settantenne che risiedeva in una località della provincia di Pesaro Urbino. Era andato al mare per trascorrere una domenica in spiaggia. Purtroppo, probabilmente aveva anche dei trascorsi, ha fatto il bagno, si è trovato in difficoltà. Subito sono accorsi per cercare di salvarlo. Il bagnino, che è pur presente in questa spiaggia libera, e poi anche altri bagnanti, lo hanno portato a riva. Sono intervenuti gli operatori del 118, sono intervenuti anche gli uomini della Capiteneria di Porto. L'hanno portato all'ospedale, ma qui è deceduto. Corsa in ambulanza, ma il settantenne non ce l'ha fatta. Purtroppo un episodio funesto, che ha, diciamo così, funestato, reso drammatico la fine del Ferragosto. E poi gli incidenti. Auto contro moto, coniugi feriti a Metauriglia. E poi l'incidente che si è verificato nei pressi del cavalcavia di via Fratelli Zuccheri. Una denuncia che viene evidenziata nella seconda pagina di Fano, del Corriere Adriatico, per quanto riguarda il degrado della città. Ci sono strutture che sono lì da anni. Sono lì da anni e imbruttiscono Fano, degradando sempre più l'ambiente che le circonda. Sono strutture che avrebbero dovuto essere provvisorie, ma rischiano di incancrenirsi, diciamo così, nell'ambiente, imbruttendo tutto quello che le circonda. E vediamo quali sono queste strutture. Ebbene, vediamo la garrita della caserma Paolini, circondata da una staccionata in legno e stata lesionata dall'urto di un'automobile che probabilmente usciva o entrava nel parcheggio e invece di essere aggiustata è stata occultata, ma in parte solo da questa staccionata. Certo è che non è un bello spettacolo. E poi non è un bello spettacolo nemmeno il casottino di Porta Maggiore che cela l'entrata ai cunicoli sotterranei che sono venuti alla luce nel 1919 in occasione della ristrutturazione di tutto il Pincio. Erano cunicoli che avrebbero dovuto essere bonificati per poi essere resi fruibili dai turisti perché sono spazi veramente suggestivi e molto interessanti dal punto di vista storico invece l'ingresso è stato occultato da questi profilati di compensato, di legno che insomma sono lì da quattro anni, possibile che devono stare lì da quattro anni invece datano molto di più, sono ancora più longevi i ferri che avvoltano tutta la struttura dell'ex asilo Manfrini sono ferri ormai arrugginiti, dovevano essere provvisori per ristrutturare l'ex asilo in realtà ancora si parla, sì, della sua trasformazione in museo della marineria, in case popolari insomma diverse vicende che si sono alternate l'una all'altra la realtà è che ancora queste brutture insistono e degradano la città ed ora passiamo a terre roveresche pronto il centro diurno per anziani, la burocrazia però dice no e insorge il sindaco Antonio Sebastianelli il quale dice il centro diurno per anziani non autosufficienti Don Remo Bianchi a San Bartolo nel municipio di Barchi è stato sistemato e ristrutturato in realtà è pronto per 25 ospiti ma qualche burocrate in regione affossa anche le migliori intenzioni siamo all'inverosimile da precisare che la struttura e il servizio conseguente alla regione non costa nulla perché abbiamo chiesto una semplice autorizzazione e non un accreditamento in realtà in questo inghippo di carattere burocratico non viene risolto e gli anziani attendono insomma voglio dire qualcuno dovrebbe darsi una vera e propria sveglia passiamo a Mondolfo a Mondolfo si parla della gestione dei rifiuti urbani e parte il nuovo regolamento pensate l'abbandono del patume sarà punito con una sanzione fino a 500 euro occorre avere senso civico per adeguarsi alle regole per una corretta immagine e pulizia della città vediamo anche la pagina di Senigallia e qui abbiamo la cronaca che impera sciocca il bar coltello contro i poliziotti lo bloccano con due scariche di taser il cliente aveva bevuto e sniffato cocaina è stato denunciato l'allarme è stato dato dai bagnini orde di ragazzini ubriachi questo è un po' il consuntivo di quello che è stato il weekend a Senigallia Senigallia è una località molto affollata di turisti purtroppo ci sono anche quelli che non si comportano correttamente e caratterizzano una vacanza in una giornata di trasgressione è dovuta ricorrere al taser sabato notte la polizia per bloccare il cliente di un bar ubriaco drogato che aveva minacciato gli agenti con un coltello è accaduto poco dopo alle 4 in un locale di lungomare da Vinci al Ciannin la volante del commissariato stava effettuando delle operazioni di controllo della Movida quando si è portata all'interno del bar e qui è successo appunto quanto vi abbiamo detto e poi abbiamo un altro episodio scappa impugnando una mannaia addirittura alta tensione riescono a bloccarlo un giovane africano reagisce a un altro controllo della polizia alla stazione arrestato addirittura per tentato omicidio e qui in questa immagine in questa serie anzi di immagini sembra veramente una sequenza cinematografica vediamo l'uomo questo qui con la maglietta rossa che viene appunto fermato da due carabinieri sono questi i carabinieri in mano a una mannaia veramente una mannaia da macellaio con il quale poteva rendersi veramente pericoloso ma non basta un'altra persona è stata a sorpresa con un coltello allarme in piazza 20 settembre l'intervento delle forze dell'ordine dopo la segnalazione dei passanti è accaduto a Civitanova Marche siamo veramente in situazioni effervescenti forse il caldo dà la testa a qualcuno vediamo anche le pagine di Pesaro ecco la situazione della spiaggia di Focara una delle più belle spiagge tanto da essere decantata da Vanity Fair ora però si tratta di un paradiso è stata trasformata in un paradiso perduto per chi scende in spiaggia mancano l'acqua e addirittura anche i bagni la spiaggia è in condizioni degradati come intervenire ebbene qual è il segno di questo degrado? dopo le frane di maggio anche la casetta in legno del bagnino di salvataggio a una parete sul retro sfondata e mai ripristinata ne si è provveduto a posizionare un altro capanno così succede che i bagnanti incivili buttano di tutto e si trova di tutto non solo cartigenica o fazzoletti e lasciano ovviamente un cattivo odore e poi c'è chi fa degli scherzi veramente indecenti vermi a sorpresa al self-h24 gomme forate alle biciclette dopo i lettini danneggiati in spiaggia altri vandalismi notturni al mare e in realtà non sono scherzi sono veramente atti da reato e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa io vi saluto vi do appuntamento alle notizie del giorno questa sera alle ore 20.30 nel Tg di Fano TV Occhio alla Notizia e domani alla rassegna stampa delle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti